Dopo i terribili fatti di sangue di Dhaka in Bangladesh, abbiamo fatto visita alla famiglia di Citra, che ci ha accolto con il suo sposo e con i suoi figli nati in Italia. Citra appartiene alla piccolissima minoranza cattolica del Bangladesh. Era già apparsa sui nostri teleschermi nella puntata scorsa, quando vi abbiamo raccontato del pellegrinaggio dei bengalesi cattolici nella nostra cattedrale per il Giubileo della Misericordia. Citra con la sua famiglia appartiene a una di quelle minoranze che oggi subiscono le violenze da parte degli islamisti. Eppure la sua prima dichiarazione ci sorprende. Quando abbiamo sentito questa notizia abbiamo preso una vergogna e detto ma domani quando esco cosa rispondo alla gente? Sicuramente farà la domanda. Tutti abbiamo sentito anche altri nostri, tutti stanno dicendo stessa cosa, ma una vergogna che noi viviamo in questo paese, invece poche persone che vivono nel nostro paese non riusciamo a dare anche la sicurezza. Si massiamo in questo modo. Ogni giorno, appena apre il giornale, uno dagli indiisti, uno mattina o pomeriggio. Si massano in lo stesso modo che hanno massato quegli italiani in ristorante. Stesso modo stanno facendo ogni giorno. Non le tagliano così, sparano, però le tagliano proprio a volare. L'ultimi quattro anni, quattro o cinque anni diciamo, ho un po' troppo. È peggiorato completamente tutta la situazione. Spesso, come ho parlato, spesso ci sono delle rapine a casa dei cristiani. Spesso ci sono rapine in parrocchia. E tanti, se parliamo, in parte che adesso stanno diventando cristiani nuovi. E loro, che vedono ancora peggio di noi, si vanno a casa di loro, si bruciano la casa, si massano le gente, si rapinano se ci sono qualcuno giovane, ragazzi di 16-17 anni, si rapinano, si portano via, si violentano. Il bisogno di mantenere i contatti con il paese di origine in questi ultimi giorni si è fatto sempre più pressante. I contatti, tra gli amici, ne abbiamo contatti su Facebook, Whatsapp. Loro mandano subito le immagini, le notizie. Poi su internet vediamo subito le giornali. Poi il nostro giornale cristiano ne abbiamo solo uno, che esce settimanale. E lì comunque lo troviamo qualche notizia. Loro, poi, amici, tramite di amici, diversi sore, frate, che le mandano direttamente delle immagini, dei messaggi, quello che sta succedendo, quello che sta facendo. Gli italiani portavano lavoro in Bangladesh, racconta Citra, e ora si stima che la loro mancanza porterà un danno notevole e ulteriore pesante disoccupazione. Fortunatamente, però, questi fenomeni non esistono tra i bengalesi che risiedono in Italia, dove anche tra credenti di religione diversa ci sono legami sinceri di amicizia. Qui è abbastanza diverso. Sono amici tra di tutte le religioni. Tante cose fanno anche insieme. Qui non lo vedo questo. Pochissimo, pochissimo chi parlano un po' male. Comunque non si è questa tolleranza come succede in Bangladesh. Mia migliore amica è una musulmana. Abbiamo studiato insieme, lei adesso ha una dottoressa. Comunque non ho avuto mai problemi. Quando chiediamo di un eventuale futuro per la loro famiglia in Bangladesh, lo sguardo si fa pensieroso. Adesso come è diventato, non lo so, se per noi c'è il spazio dopo in Bangladesh. Soprattutto hinduisti e cristiani, perché vogliono mandare via queste due religioni.